Sono dati importanti quelli presentati nell'ultimo report sul sistema informativo regionale stilato dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. È stato infatti analizzato come i cittadini si approcciano al mondo dell'informazione e soprattutto quali sono le testate giornalistiche più seguite dal pubblico. Il primo numero che emerge è netto, la tv rimane la principale fonte di news della popolazione. In Emilia Romagna quasi il 64% la accende tutti i giorni. Sempre nella nostra regione internet è al secondo posto seguito dai quotidiani e dalla radio. Altro dato importante è la valenza delle tv locali. Il 51,8% degli emiliano-romagnoli dichiara di seguirle quotidianamente per informarsi. Per quanto riguarda i mezzi di informazione più seguiti, la prima emittente del territorio risulta essere Teleromagna TR24, quarto mezzo di informazione regionale in generale considerando anche i quotidiani RAI e radio. Un risultato quindi per noi davvero eccezionale che ci sprona ad andare avanti nel nostro percorso. Desideriamo ovviamente ringraziarvi per seguirci sempre con così tanto affetto, ma permetteteci anche di approfittare di questa occasione per fare un invito alle istituzioni. Tutto cambierà nel sistema radio televisivo anche locale nei prossimi anni e facciamo appello quindi al governo, alle istituzioni affinché ci sia davvero voglia di preservare queste importanti realtà del nostro territorio.